Truffe agli anziani. La polizia mette in guardia contro l'ultima trovata dei malviventi per entrare nelle case. Uno degli ultimi inganni infatti concepiti dai truffatori per introdursi nelle abitazioni è quello dei finti vicini di casa. Delle persone si presentano sulla porta, fingono di abitare al piano superiore e di dover recuperare oggetti caduti dal proprio balcone su quello sottostante. La polizia mediante le pagine social raccomanda di mettere in guardia soprattutto gli anziani e di stare loro vicino. Infatti sono loro purtroppo le vittime predilette dei malviventi. E' bene ricordare di non lasciare mai entrare in casa persone sconosciute e di non prestare ascolto a eventuali richieste anomale da parte di estranei.